Fai dell'eccellenza il tuo standard. Robin Good è il primo italiano ad aver guadagnato un milione di dollari con Google. Alessio Roberti è l'italiano con maggiore esperienza nella ricerca e formazione in PNL. Sebastiano Zanolli, manager, scrittore. Sir John Whitmore è il padre del coaching mondiale. Il suo libro Coaching è il più conosciuto al mondo ed è stato pubblicato in 20 lingue. Vincere, forum delle eccellenze. Roma 1, 2, 3 aprile 2011. Devi sapere che puoi vincere. Devi pensare che puoi vincere. Devi sentire che puoi vincere. www.forumeccellenze.it Performance Strategies Deposito puedes presentare il mio buon appetito. www.forumeccellenze.it Per diễnico.it Espere che puoi vincere. La secola parte di venire è il mio buon appetito. Per diarli. Per diarli.